Donna al volante da Hoft, la gazzamobile è riminabilmente morta e quindi la stiamo riportando a Lambattare per poter passare la linea del traguardo e stiamo cercando di barattare sul prezzo e quindi siamo offrendo tutto ciò che abbiamo. Ciò che abbiamo noi e ciò che hanno anche gli altri due team che ci stanno aiutando e che stanno praticamente mettendo sul piatto della bilancia tutti i loro averi. batterie, olio, kit, luci, taniche, materassini per dormire, sembrano tutti molto interessati e speriamo di riuscire a barattare un buon prezzo in modo tale da non spendere troppi soldi per portare la gazzamobile a destinazione.